Un po' tutta la mia famiglia si dedica a questo in azienda, chi in un ruolo o nell'altro, io seguo un po' tutte le fasi, la moglie, mio figlio, mia nuora. Il periodo della raccolta è un momento bellissimo, perché raccogliere i frutti dopo un anno di lavoro. Ambrogio Valentini è uno dei pochi al mondo ad aver numerato una ad una le sue secolari piante. Da ben tre generazioni la sua famiglia in Puglia si occupa della produzione di olio. I nonni raccoglievano le olive da terra, poi abbiamo cominciato, mio padre, a raccogliere delle piante, poi sono arrivati i nuovi macchinari che hanno cambiato un po' tutto il sistema della lavorazione. Per fare qualità l'imprenditore deve mettere tanta dedizione, dalla potatura fino alla raccolta, il frantoio e tutto il resto. Le sue 500 piante producono ai piedi della collina di Cisternino, in provincia di Brindisi, un olio di alta qualità, al gusto fruttato. I nostri oli sono uno extravergine San D'Ambrogio, uno extravergine DOP e quattro aromatizzati. Uno all'arancio, al limone, al peperoncino e uno limone e peperoncino. Grazie a tutti. Grazie a tutti.